Qualcosa che vorresti trovare nella tua sede quando arrivi in ufficio? Sicuramente arrivo più rilassato ma anche più sudato, mi piuserebbe se ci fosse uno spogliatoio, così prima di entrare in servizio potrei essere un po' più in ordine. Arpa ha fatto un grosso lavoro, per esempio abbiamo la possibilità di parcheggiare anche all'interno, in modo di custodire le bici in modo sicuro, il mio sogno sarebbe quello di avere l'incentivo per ogni chilometro pedalato e avere un piccolo riconoscimento economico. Avere un paio di e-bike giusto perché non ci si muove tanto perché la bici è fatti cosa così, però se ho un e-bike mi faccio amare anche 10 chilometri. Mi piacerebbe trovare appunto dell'attrezzatura per rigonfiare le gomme, poi trovo utile il fatto che ci sia comunque un ricovero in agenzia per il deposito delle bici.